Se mi segui già da un po' sai che per me tutto è cominciato con un semplice blog circa sette anni fa, un piccolo progetto che stava dando i suoi risultati, ma che decisi di mettere in pausa per dedicarmi a qualcosa che avesse un impatto ancora più grande nella mia vita e in quella delle persone intorno a me. E così per diverso tempo mi sono rimboccata le maniche lavorando instancabilmente dietro le quinte a fianco di alcune delle menti più brillanti che potessi incontrare. Ho cresciuto progetti come Omnama in Italia e Zen World all'estero, ma soprattutto ho imparato come gestire tutto senza sacrificare la mia libertà, la mia vita. Dopo oltre sette anni di esperienza diretta sul campo sta per uscire Beats Academy, la nuova business academy tutta al femminile per donne che vogliono crescere un brand di successo sul web senza più dover scegliere tra vita e lavoro. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale cliccando sul pulsante rosso Iscriviti perché d'ora in poi se ne vedranno delle belle e tu non puoi perderti nemmeno un aggiornamento. Oh e se non sei una donna, niente paura, i CC Weekly tornano molto molto presto, nel frattempo però tu aiutami a diffondere la voce fra tutte le donne che fanno parte della tua vita e che sai potrebbero essere molto felici di conoscere Beats Academy. Iscriviti! 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 Iscriviti!